Parli con quegli occhi, sudamericani, che ti stanno bene, sai? Come posso avere una tua attenzione per scambiare un po' di intimità? Dammi modo di conoscere il tuo cuore, fammi camminare dentro, dentro l'anima, dentro l'anima. Fammi un po' sentire, un po' del tuo profumo, voglio quello naturale, fammelo capire, e se vuoi starmi accanto, lancia gli occhi su di me, dammi modo di conoscere il tuo cuore, fammi camminare dentro, dentro l'anima. Dentro l'anima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quegli occhi sudamericani che ti stanno bene, sai?